Ciao ragazzi bentornati su Prophecy by Next Hardware Penso che ormai in tantissimi abbiate sentito parlare almeno una volta dei cosiddetti sistemi e GPU Ovvero di quei dispositivi, quelle box esterne che ci consentono di collegare una normale scatavideo desktop ad un altro device Magari un portatile da ufficio per andarlo a potenziare e renderlo una vera e propria macchina gaming Ovviamente questo genere di soluzione viene sfruttato anche in ambito professionale Ma come quasi sempre direi oggi ci focalizzeremo su quello gaming Andremo a vedere proprio se può avere un senso per nuovi videogiocatori oppure no Quella che vedete è una XG Station Pro di Asus Una box esterna che vi consente di collegare una normale scatavideo desktop come può essere una RTX 2070 ad un portatile via Thunderbolt 3 Thunderbolt per chi non sapesse cos'è è un tipo di connessione ad elevate prestazioni che è in grado di veicolare dati ad una velocità di 40 gigabit per secondo Ovvero 5 gigabyte per secondo Che è un bel numero ma relativamente piccolo se confrontato con la velocità di trasferimento dati che compete ad una PCI Express di terza generazione 16x Che invece sono 16 gigabyte per secondo Vi dico ciò per farvi capire come quando colleghiamo in questo modo una scatavideo ad un notebook Stiamo sfruttando una connessione che è circa 3 volte più lenta di quella che abbiamo collegando la scatavideo stessa direttamente alla scatamadre del nostro PC Quindi quello che andremo a vedere prima di tutto oggi è se questa cosa impatta sulle prestazioni E poi nell'atto pratico come riesco a giocare con questa soluzione rispetto ad una controparte desktop con la medesima scatavideo Quindi un normale PC desktop con la stessa GPU Questa XG Station Pro è stata realizzata da Asus in collaborazione con InWin La struttura è interamente in alluminio È in grado di ospitare schede grafiche lunghe fino a 310 mm E al suo interno sono presenti due belle ventole in InWin Polaris da 120 mm Che aiutano ovviamente a mantenere bassa la temperatura Ah sì, nonostante il design piuttosto sobrio ed elegante Non poteva mancare qualche LED RGB che vabbè si sa da sempre quel tocco in più di gaming Che comunque potete controllare tramite Aura Sync Quindi questa è una bella cosa senza dubbio Il collegamento al notebook avviene ovviamente tramite una porta Thunderbolt 3 Che con la sua ultima versione sfrutta il connettore Type-C Come vi dicevo abbiamo messo a confronto su alcuni giochi Questo Asus Zenbook Pro che è già un signor portatile Ma integra come scatavideo una GTX 1050 Ti Accoppiato tramite la XG Station Pro ad una ROG Strix RTX 2070 Con un PC desktop che prevede sempre la stessa scatavideo E un i7 8086K come processore Vi lascio adesso alcuni di questi benchmark Poi se volete approfondire in descrizione trovate il link che vi rimanda al focus Sul portale dove ci sono più test Grazie a tutti Grazie a tutti Come avete potuto notare da questi risultati C'è una bella differenza La RTX 2070 collegata via Thunderbolt al notebook Non rende come potrebbe E andiamo a perdere molto di quello che è il suo potenziale La perdita è dovuta principalmente proprio ai limiti della connessione Thunderbolt È una perdita importante perché facendo una media di questi risultati Abbiamo oltre il 30% di FPS in full HD E un 25% circa in 4K Varie comunque da gioco a gioco Ma la media è questa Ovviamente rispetto alla controparte desktop Quindi il gap ce l'abbiamo a tutte le risoluzioni Tenete poi presente due cose La prima è che per questi test abbiamo utilizzato un gran bel portatile Con un processore di ultima generazione Un Intel Core i9-8950HK Parliamo di un esa core con tanto di hyper trading E se voleste collegare la scheda video esterna tramite la box Ad un notebook più economico Con un processore meno prestante Potreste avere un altro problema Cioè potreste essere limitati non solo dalla connessione Thunderbolt Ma anche dalla CPU stessa E poi altra cosa importante I test che vi ho mostrato sono stati effettuati Collegando la scheda video esterna ad un monitor esterno Perché se utilizzate direttamente il monitor del portatile Avete dei risultati ancora peggiori Un'esperienza di gioco ancora peggiore Questo perché molto banalmente In questo caso Quello che elabora la scheda video esterna Deve tornare indietro al notebook Prima di essere visualizzato su schermo Quindi diciamo che c'è un passaggio in più E la connessione Thunderbolt è ancora messa di più sotto stress Quindi per sfruttare al meglio questo genere di soluzione Non dovresti oltretutto rinunciare ad un monitor esterno Dunque direndo un po' le somme Per acquistare questa XG Station Pro Che come avete capito ormai viene venduta da sola Senza scada video Ci vogliono circa 400 euro E se poi vogliamo prendere un RTX 2070 Come in questo caso O una 2060 Il budget sale facilmente a 700-800 Anche più euro A cui dovete sommare Se non ce l'avete il prezzo di un notebook Che disponga comunque di un buon processore E della porta Thunderbolt 3 ovviamente E anche il prezzo di un monitor esterno Molto facilmente andiamo a spendere Quello che ci occorre per acquistare Un notebook gaming di livello Che indubbiamente ci offre delle prestazioni Superiori rispetto a quelle che abbiamo visto Con la docking station Poi c'è da dire anche che I notebook gaming di adesso Sono anche portatili Nel vero senso della parola Sono sempre più leggeri e sottili Soprattutto con l'introduzione Del design MaxQ Quindi è vero che questo genere di soluzione È indicata Soprattutto per chi ha già un notebook Vuole magari senza un buon notebook Ma senza una grafica integrata importante E vuole togliersi lo sfizio Di giocare Tornando magari a casa E collegando semplicemente Un cavo insomma Quello che occorre Al proprio notebook Però Sono sempre dell'avviso Che se volete fare ciò Vale la pena Upgradare direttamente Il notebook Quanto meno questa è la mia idea Per godere di prestazioni Davvero buone Questo senza nulla togliere Alla docking station di Asus Che è indubbiamente Un bello oggetto Elegante Di ottima fattura E occupa anche Poco spazio Ma mi riferisco Proprio ai limiti attuali Della connessione Thunderbolt Che non è ancora abbastanza matura Per rendere interessante E appetibile Per noi Videogiocatori E sottolino la parola Videogiocatori Questa soluzione Comunque ragazzi A me interessa però La vostra Quindi fateci sapere Con un commento voi Che cosa ne pensate Se avete mai preso in considerazione Tutto ciò E niente Ci vediamo al prossimo video Adesso Adesso Perché Grazie per la visione!